Vado a capire la settimana! Pagliano! 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 Bravo! L'ho lisciata eh! Ma perchè l'avvicinai il bordo! Vignene! Certo! Eh, ho Franci! Cambiamo anche gli occhi, hai visto? Lui c'ha già, lui c'ha già una bella coordinazione eh! Lui c'ha già una bella coordinazione! Si, no, lui c'ha già una roba di urso, con quelli che fa in generazione... Si, no, lui c'ha già una bandina, la porta l'anno! Oggi c'ha una possibilità di comprare più di mezzo! Dove? 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 Dove!